Il pastorale pesuviale, uno spaccato di vita in una realtà dove i problemi sono atavici, una realtà, una terra dove le condizioni di vita sono agli ultimi posti, in una eventuale classifica fra le città più problematiche. I vicoli, i bassi, le strade, le bande di ragazzi raccontati da Tonino Scala nel suo libro Pastorale Vesuviana, diventano un quadro vario pinto dove i colori rappresentano le emozioni, le vicende, le storie di famiglie e di uomini, donne e ragazzi, a volte avvinghiati da un destino che sembra ineluttabile e purtroppo senza una soluzione positiva. Il racconto quanto mai reale di Tonino, che ha raccontato momenti tristi e negativi, lascia però spazio alla speranza, che pur essendo flebile e lontano, dà la forza di uscire dal tunnel e vivere in una vita normale. Tonino è interprete, scrittore e protagonista di una vita vissuta in un quartiere di Castellammare, degradato, abbandonato, dimenticato, ma è lui medesimo l'esempio di chi riesce a sollevarsi e dare speranza ai tanti che purtroppo per vivere devono combattere. Purtroppo, aggiungo di nuovo, una vita di stenti e di pericoli. Anche la mia città, la mia realtà, che è quella di Castellammare, perché bisogna sempre partire da dove si è nati. Non faccio altro che provare ad acchiappare nell'aria ciò che esiste, quindi la verità è un libro verista e trasformarlo poi in letteratura. Stasera qui a Nocera di Perugia è un incontro bello. Sì, veramente straordinaria ed è stata straordinaria anche la discussione, una bella discussione con dei relatori che hanno sviscerato bene un po' sia l'aspetto complessivo, quindi la struttura del racconto, ma anche i singoli personaggi. La cosa che mi è stupita è che da un libro che è senza speranza alcune è uscito fuori invece una bella traccia di speranza. È una bella serata proprio da vivere tutti quanti insieme. Castellammare è una storia? Castellammare è una storia che si ripete, perché poi il libro riporta di Castellammare questa storia della Fincantieri, sostanzialmente, che è una storia che non finisce perché fra poco c'è Whirlpool. Presentazioni del genere ci siano in città, siano sempre più numerose, soprattutto si dia la possibilità di partecipazione a un più ampio numero, anche attraverso magari una divulgazione un po' più certosina di questi eventi. È stata una bella serata, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato di disagi comuni di una terra molto simile alla nostra, che è quella di Castellammare, dove emergono tante peculiarità simile alle nostre. La centralità della chiesa di un santo Sancatello, che viene rubato, ma che ha la sua funzione sociale, quasi di pacificatore, con le maestranze che sono in rivolta per il lavoro. Ci sono le storie del disagio, del disagio personale, ci sono delle storie drammatiche all'interno di questo libro che, ripeto, fotografano una realtà molto vicina alla nostra, che accomuna i luoghi di Castellammare anche con le realtà dell'agronocerino sarnese. Il nuovo spazio che abbiamo aperto circa tre mesi fa, perché crediamo nel territorio, è uno spazio dove si fanno relazioni, dove si fa network, si fa un network reale, non è il solito social network, non è il digitale, è un network vero e proprio, fatto di persone reali, che si incontrano e creano, costruiscono progetti, immaginano futuri diversi e fanno tanto l'uno per l'altro. Siamo a Let's Co. e siamo in una start-up innovativa di questi due giovani che vanno secondo me incentivati e promozionati, che sono Lucia Orsini e Lorenzo Petti, che hanno creato un co-working, cioè un luogo, uno spazio che può essere utilizzato, sì, ma dove si incontrano soprattutto tanti giovani, dove io quando sono qui apprendo, cioè per la prima volta imparo. Mi fanno mangiare. No, vabbè, ma l'adoro a prescindere per come donna e come imprenditrice, io l'adoro. Lucia, è una gioia. Sì, lei è proprio una gioia. E stasera è stata una bella sera. È stata veramente una bella sera e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e ringrazio te per essere venuto. Tonino Scala, la famiglia Principe, la famiglia da Consi, la famiglia Mucciolo con Pasotà, i ragazzi di Let's Co., il vino che ci è stato comunque offerto sempre da Castel San Lorenzo, tutti, tutti, Raffaele Venturino con la pasta, tutti. Dimmi, grazie, grazie mille. Ciao. Ok, Giovanto. Mi piace sta cosa. Grazie.